E adesso è il momento di parlarvi di Francesco Zecchini il corteggiatore di Claudio Sona. Insomma vi stiamo parlando del nuovo e amatissimo trono gay di uomini e donne. Un trono che a giudicare dai dati Auditel sta avendo veramente un grande successo? Sicuramente per merito di Francesco Zecchini e Mario Serpa ossia i corteggiatori e ovviamente anche per merito di Claudio Sona. Insomma il trono appare vero come non mai. C'è, tutto quel naturale imbarazzo che sinceramente, nei troni tradizionali si è un pio perso. Poi lasciatemelo veramente dire. Fra Claudio e Mario si vede chiaramente che c'è, qualcosa di magico. E nonostante Francesco e Claudio si si inaobaciati, senza telecamere, credo che ormai lo abbia compreso anche lui. Sto cercando di raccontarvi un pio i fatti senza svelarvi le ultime anticipazioni di uomini e donne credo che lo abbiate capito. Ma sicuramente Francesco non si sta dando per vinto. E infatti è stato al concerto di Marco Mengoni amatissimo da Claudio Sona e ha pubblicato questa foto?